Ancora maltrattamenti in famiglia, ancora storia di amore malato, protagonisti della cronaca. I carabinieri alla stazione di Messina Gazzi hanno arrestato un 49enne in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP a conclusione delle indagini avviate dagli uomini dell'arma su denuncia della vittima. Una donna che ha convissuto con il suo persecutore per quasi 18 anni, durante i quali ha subito minacce e continui atti di vessazione. Anni in cui ha sofferto in silenzio, vivendo la quotidianità in un clima di assoluta sottomissione e paura. L'uomo, durante la redazione familiare, l'avrebbe vessata, denigrandola con frasi di ogni tipo e costringendola a chiedere il permesso anche sul lamento per compiere semplici gesti, come il fumare una sigaretta a poter incontrarsi con un'amica. Accecato dalla gelosia, il compagno ha anche vietato alla donna di uscire di casa senza il suo permesso, non esitando a percuoterla in presenza della figlia minore. La sempre più pressante e immotivata violenza, unita alle sofferenze morali patite, hanno aperto gli occhi e hanno finalmente convinto la donna a lasciare il proprio guzzino, gli uomini dell'arma coordinati all'ufficio della procura hanno ricostruito il clima di terrore in cui la donna è stata costretta a vivere d'ora sul 49enne, grave la pesante accusa di maltrattamenti in famiglia per la quale è stato messo il provvedimento cautelare che lo ha ristretto ai domiciliari.